ma quanti riferimenti a puff daddy troviamo nei film e nelle serie tv ebbene prima di parlarne facciamo anche un po chiarezza su chi sia questo personaggio quindi iniziamo ciao sono captain nerd e bentornati su chuck e azione puff daddy è un magnate del rap accusato oggi di sfruttamento della prostituzione e distorsione secondo la procura federale di Manhattan e la motivazione è che per decenni ha abusato minacciato e costretto le donne a soddisfare i suoi desideri spingendole pure a proteggere la sua reputazione e a nascondere tutte le sue azioni e quindi per tutta una serie di vicende di cui non parlerò sicuramente in questi video si arriverà a un processo dove probabilmente verrà arrestato ma oggi veniamo a noi perché oggi parleremo di tutti quei riferimenti riguardo puff daddy che troviamo in film e serie tv quindi mettetevi comodi perché ve le elencherò tutti partiamo con una serie animata un po scontata i simpson che nella ventottesima stagione viene trasmesso un episodio intitolato the great fesby facendo riferimento anche al film con dicaprio del 2013 nella puntata viene spiegato di come un magnate della musica abbia fatto i big money facendo chissà cosa di probabilmente illegale vediamo i nostri simpson venire attratti dalla sua villa dove notiamo esserci dei white party con grandissimi riferimenti a quelli del nostro puff daddy con tanto di somiglianze tra i personaggi animati assurdo viene poi citato nella sesta stagione di supernatural in uno sketch tra i due protagonisti ragazza facile è un vantaggio allora a quale essere piacciono le vergini e loro puff daddy puff daddy possiamo sentire il suo nome anche in una parte del primo madagascar però in inglese e infine nel film white chicks del 2004 possiamo notare le somiglianze dei due attori con justin beaver e il nostro diddy ragazzi siamo giunti alla conclusione di questo video spero che vi sia piaciuto e che ne abbiate apprezzato il contenuto inoltre vi chiedo di iscrivervi al nostro canale su youtube cliccando anche sulla campanella che è sempre una cosa importantissima siamo anche su instagram e facebook quindi correte a iscrivervi e niente da carta nerd qui oggi è tutto noi ci vediamo presto a un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti